dato che le trote che si vedevano bollare non mangiavano sembravano essere particolarmente indolenti proviamo a scendere più in profondità quindi lasciamo scendere la nostra lenza fino sul fondo per recuperare poi in maniera molto lenta per per assecondare proprio la lentezza di queste trote tipiche invernali che tendenzialmente girano molto sotto riva quindi probabilmente riceveremo delle abboccate quando siamo a fine passata sotto riva sul fondo quindi facciamo recupero altrettanto lento per lasciare la nostra esca il più possibile davanti alla loro bocca della bocca delle trote e indurla la boccata